Ma io sono stato sempre molto chiaro sul ruolo dell'esercito. L'esercito va bene a presidiare obiettivi fissi in modo da distogliere le forze dell'ordine ordinarie che spesso devono presidiare quegli obiettivi, cosa che si fa già da tempo. Quindi se può essere utile eliminare, togliere poliziotti, carabinieri e finanzieri da obiettivi fissi sensibili che possono essere sorvegliati dall'esercito, ben venga. Se invece si pensa di militarizzare il territorio e quindi utilizzare l'esercito per il controllo di pattugliamento del territorio, sono assolutamente contrario perché non è quella la strada. Le mafie si sconfiggono con i poteri ordinari. Semmai ricordiamo a chi fa queste dichiarazioni che i poteri ordinari per poter funzionare hanno bisogno di risorse e mezzi. Se noi guardiamo le carenze di organico della Polizia Municipale, alle quali non possiamo sopperire perché c'è il patto di stabilità, pur avendo noi soldi in cassa non possiamo far scorrere le graduatorie perché il governo ce lo impedisce, forse ecco questo, un piccolo strumento normativo che alleggerisca il patto di ottusità ci potrebbe sicuramente dare manforte, così come dare più risorse ai carabinieri, ai poliziotti e ai finanzieri. C'è un'età media dei poliziotti di Stato della nostra città che sfiora i 60 anni. Andiamo a fare i servizi di notte quando hai 57, 58 anni, insomma voglio dire, qua abbiamo gente che non mi piace troppo usare il termine eroico, ma c'è anche gente che non è più giovane che fa attività di controllo sul territorio in condizioni molto difficili. Quindi ripeto, io sono sempre per la Costituzione e l'ordinarietà, che però deve vivere con mezzi, risorse e strumenti. Il governo sa che deve fare, gliel'abbiamo anche noi detto più volte e ci auguriamo che da questo punto di vista ci siano segnali di cambiamento.